Si completa con la Pentecoste il tempo dei 50 giorni nei quali abbiamo condiviso passo a passo la vita con gli Apostoli alla presenza del Risorto. Abbiamo sentito con loro lo sconcerto della fine di un sogno terreno, con la morte di Gesù, la sua sepoltura, ma anche il dispiegarsi di un nuovo sogno divino, con la sua risurrezione e le apparizioni del Risorto che li accompagnano Abbiamo condiviso con loro il riemergere nella memoria delle vicende vissute con Gesù, delle sue parole e delle sue azioni e cominciato a capire insieme a loro quanto questi eventi fossero la rivelazione di un'immagine di Dio totalmente nuova, superiore a quanto mai pensato. Abbiamo forse provato anche un po' il disorientamento del giorno dell'ascensione, del distacco e quella sensazione forse di essere più soli di prima. Questo percorso che abbiamo fatto attraverso la liturgia invece era un'esperienza in prima persona dei catecumeni quelli che avevano ricevuto il battesimo nel giorno di Pasqua e che vivevano questi 50 giorni come se fossero un unico grande giorno, il giorno appunto della loro rinascita. Per questo la liturgia, ancora oggi, propone due schemi di celebrazione particolarmente dedicati ai catecumeni per aiutarli a consolidare la loro esperienza di rinascita e far germogliare in loro una nuova vita. Nella nostra messa, quella dei battezzati non più neofiti, ripercorriamo la potenza del dono dello spirito che entra con forza in quella sala scuotendola fin dalle fondamenta, la sala dove sono radunati gli apostoli, e irrompe su di loro con doni straordinari descritti anche nella epistola di Paolo ai Corinzi. Ecco, allora anche noi facciamo come loro memoria del Paraclito, il difensore presso Dio, quello che Gesù ci ha promesso e che deve ancora convertire la nostra vita verso la missione. Si completa qui una prima grande parte dell'anno liturgico, quella che va dall'Avvento alla Pentecoste, un periodo in cui la liturgia ci ha rinnovato i doni della nostra fede, i misteri della nostra fede, quella che ci è stata donata. Inizia ora un nuovo tempo. In questo tempo la liturgia ci vuole attivi con tutte le nostre caratteristiche umane e sostenuti dallo Spirito rinnovato di Dio, dovremo coinvolgere anche la parte più razionale di noi, in un percorso che si definisce mistagogico, cioè della progressiva intelligenza della fede, cioè comprendere a fondo cosa vuol dire per noi la fede che ci è stata donata. Intelligenza nel senso originale del termine intus, leggere, leggere dentro, leggere in profondità, oltre quello che è la prima sensazione, la prima apparenza e per noi anche oltre quello che già crediamo di sapere e di conoscere in profondità. Lo scopo di tutto questo è perché noi diventiamo più realmente missionari durante la nostra vita, nell'interno delle nostre azioni, della nostra quotidianità. Dalla prossima domenica la liturgia si propone a noi sotto questa prospettiva. Prepariamo certe compito con animo aperto, quasi fossimo ancora noi dei neofiti.